Ben ritrovati amici telespettatori. Oggi vi parleremo di una notizia di cronaca, ma tenteremo di andare oltre la notizia e oltre la cronaca per cercare di prevenire situazioni come quelle che hanno caratterizzato un'intera comunità che sta vivendo in questo momento lo sgomento in Sicilia. La notizia è di domenica scorsa ed era riportata sulle prime pagine dei principali quotidiani italiani già lunedì mattina. La Repubblica di lunedì 12 febbraio riportava in taglio basso una fotonotizia con il titolo «Vede il diavolo in casa e massacra figli e moglie». Nell'occhiello veniva riportata la frase «L'ombra di una setta a Palermo». Nella didascalia della fotonotizia Palermo Antonella Salamone, 41 anni, uccise insieme ai due suoi figli. Dalla Repubblica passiamo al quotidiano il giornale. Anche il giornale lunedì in prima pagina titolava «In taglio medio uccide la moglie e due figli, li ho liberati dai demoni, tragedia a Palermo». Questo veniva riportato nell'occhiello. Come terzo quotidiano che in prima pagina ha dato ampio risalto nella giornata di lunedì a questa notizia il Corriere della Sera, che anche in questo caso pubblicava una fotonotizia in taglio medio con il titolo «In casa c'è il demonio uccide moglie e figli». Nell'occhiello Palermo salva la maggiore di 17 anni, fermata anche una coppia. E poi c'è un incipit brevissimo sulla prima pagina del Corriere della Sera, c'è il demonio in casa delirava l'uomo che ha ucciso moglie e due figli a Palermo. In realtà il delitto è venuto in una frazione di Palermo, in un paese alle porte del capoluogo siciliano. Abbiamo parlato del Corriere della Sera e in particolare nella giornata di lunedì il sito internet del Corriere della Sera, nella sezione dedicata al Corriere del Mezzogiorno, metteva in evidenza soprattutto un legame, visto che il Corriere del Mezzogiorno ha una sua redazione anche a Bari, metteva in relazione la notizia di questo triplice omicidio familiare che è venuto a Palermo con colui che pare sia il fondatore della setta a cui apparteneva l'uomo che ha praticamente distrutto quasi tutta la sua famiglia, abbiamo detto si è salvata soltanto la figlia 17enne e a questa setta pare appartenessero anche le due persone che insieme all'uomo hanno perlomeno assistito a questo massacro. E questa persona, il fondatore di questa setta, pare che sia originario del capoluogo pugliese, sia originario di Bari, un uomo che fino a qualche anno fa svolgeva regolarmente la sua attività di parrucchiere, questo ha scritto il Corriere del Mezzogiorno sul sito del quotidiano nella giornata lunedì, quest'uomo fino a qualche anno fa faceva il parrucchiere a Bari, poi ha aderito o ha costituito una sorta di setta che si ispira alla Chiesa Evangelica, sebbene comunque la Chiesa Evangelica ufficiale abbia ricusato l'appartenenza di quest'uomo alla loro organizzazione e autoproclamandosi pastore di questa Chiesa Evangelica ha cominciato a predicare, a pregare e a ritenere di poter offrire guarigioni e anche liberazioni dal diavolo a buon mercato. Quest'uomo nonostante appunto non avesse nessun tipo di curriculum per dare ai suoi adepti una sorta di garanzia sulla serietà del suo modo di procedere, in realtà ha fatto moltissimi adepti soprattutto in Calabria e in Sicilia. Vedremo anche quali implicanze avrà questa persona, il presunto fondatore della setta, sulle vicende che sono avvenute a Palermo. Dicevamo che le prime pagine di tutti i principali quotidiani lunedì in edicola hanno riportato questa notizia, il quotidiano avvenire che per alcuni aspetti ha un interesse particolare, fare chiarezza nell'ambito di quello che è avvenuto, visto che molti mezzi di informazione hanno confuso questa situazione che forse non ha nulla a che fare con la religione, con appunto questa parola, religione che spesso è stata usata. Avvenire lunedì non era in edicola, però era in edicola martedì e anche il quotidiano avvenire ha voluto riportare la notizia in prima pagina, nell'edizione di martedì 13 febbraio, con un richiamo perlomeno in taglio basso, il titolo era Presi i due complici, l'esorcismo e altro, la strage di Palermo. E poi il quotidiano avvenire all'interno di pagina 10 ha voluto mettere a fuoco l'intera vicenda, sia dal punto di vista di quello che è accaduto, sia della cronaca, sia intervistando un esorcista, ha cercato di fare un po' chiarezza per sgombrare il campo dagli equivoci, fra quello che è un vero esorcismo e quello che hanno ritenuto di fare il marito e padre assassino e gli eventuali suoi complici. Ma andiamo per ordine e leggiamo alcuni stralci della cronaca che Roberto Puglisi, a pagina 10 del quotidiano avvenire di martedì 13 febbraio, ha fatto di quello che nel titolo viene definito il dramma della famiglia sterminata all'ombra della setta, paese sotto shock. Diverse ore dopo la scoperta del triplice omicidio ad Altavilla Milicia, serena cittadina a pochi chilometri da Palermo, come dicevamo molti quotidiani nella prima pagina, per sintesi hanno parlato di Palermo, ma è una cittadina a pochi chilometri e in provincia di Palermo. Da un pozzo nero e profondo continuano a sgorgare i dettagli di una violenza che potrebbe essere definita innominabile se solo gli aggettivi avessero il potere di descriverla. La cronaca sta mettendo a punto l'accaduto tassello per tassello. Mi chiamo Giovanni Barreca, ho ucciso tutta la mia famiglia, venite a prendermi. Il centralino dell'arma riceve la telefonata nella notte di sabato scorso. L'uomo non è purtroppo un mitomane, ha 54 anni e ha appena sterminato i suoi familiari, la moglie e due figli. Dice di attendere i militari a Casteldaccia, nelle vicinanze di Altavilla, una pattuglia corre e lo prende in consegna. Successivamente un altro equipaggio raggiunge al volo la casa di Barreca. Quello che i carabinieri trovano è uno scenario estremo di cui è opportuno riferire soltanto le parti strettamente essenziali. Ci sono i cadaveri dei due figli, Emanuel di 5 anni e Kevin di 16. C'è un'altra figlia 17enne miracolosamente sopravvissuta. Avrebbe visto lo scempio. In seguito viene rintracciato ciò che resta del corpo della moglie del muratore assassino di 13 anni più giovane. Si chiamava Antonella Salamone. Dalle ulteriori parole di Barreca pronunciate in caserma emergerebbe il profilo di una ossessione. C'era il demonio in casa, ripete l'uomo. Forse il massacro è nato da un folle esorcismo con il coinvolgimento di altre due persone fermate insieme all'assassino. Si tratta di Sabrina Fina e di Massimo Carandente. Una conferma del perverso rituale ad opera di una specie di setta sarebbe arrivata dalla figlia superstite. Quello che si è avvenuto non ha nulla a che fare con quello che effettivamente è l'esorcismo e che risponde al significato vero della parola esorcismo. Viene precisato sempre su pagina 10 del quotidiano avvenire da un vero esorcista, un frate cappuccino siciliano che oltre ad avere questo ministero da parte del suo vescovo, peraltro è anche competente nella zona in cui si è verificato il delitto, è anche psicoterapeuta, quindi ha una competenza davvero significativa. Il titolo dell'articolo di Riccardo Maccioni è il seguente. Satanisti e gruppi esoterici, ora con il web trappole più facili. Innanzitutto l'articolista Riccardo Maccioni fa una chiarezza. Il tragico evento di cronaca consumatosi alle porte di Palermo non ha niente a che vedere con gli esorcismi. L'esorcismo ha una sua caratteristica molto definita, spiega Fra Mauro Billetta, esorcista dell'Arcidiocesi di Palermo e psicoterapeuta. Si tratta di un sacramentale, il vero esorcismo, parla ancora l'esorcista vero Fra Mauro, si tratta di un sacramentale esercitato a nome della Chiesa tutta da un sacerdote nominato dal vescovo e questo sacramentale viene fatto all'interno di un preciso rituale. Alla base della vicenda sembra invece esserci una grande fragilità, situazione che si registra spesso in eventi legati a presenze demoniache o presunte tali. Non a caso all'impegno del sacerdote esorcista va affiancata una figura medica. Certo, prosegue padre Mauro Billetta, frate Cappuccino, si fa una diagnosi previa per capire se ci sia un fatto di ordine psichico o di natura organica perché alcune patologie cardiache o neurologiche possono presentare dei sintomi capaci di confondere. Noi lavoriamo in equip di cui fanno parte anche uno psichiatra, uno psicoterapeuta e un criminologo. Professionalità necessarie soprattutto nei casi più complessi. Molte persone che vengono da noi, aggiunge padre Mauro, molte persone che vengono da noi hanno storie di sofferenza parecchio gravi. Riuscire a fare una diagnosi corretta permette loro di orientarsi e di andare dallo specialista di turno. Nella vicenda di Altavilla, da quello che si legge, ci troviamo di fronte ad una turba psichica grave. Qui parla più lo psicoterapeuta che l'esorcista. C'è un delirio di pensiero e il fatto che siano coinvolte più persone rende i fatti ancora più complessi. Sullo sfondo resta una domanda, se cioè la minore partecipazione alla vita della Chiesa si accompagna ad una maggiore attenzione all'occultismo. L'essere umano è religioso, conclude Fra Billetta, deve credere in qualcosa. Quando metti da parte Dio o comunque rispondi ad una cultura egoistica che è propria del consumismo dei nostri giorni, è orientata all'idolatria del proprio io, vieni spinto a cercare potere, successo. E allora la persona andrà alla ricerca dell'esoterico, si costruirà un Dio su misura, arrivando ad un'illusione di straordinarietà che lo può portare anche all'occultismo e a pratiche esoteriche. Questo dunque il parere di un esorcista vero, che è anche psicoterapeuta, ma noi affronteremo il problema del rischio di cadere in un'illusione che può essere favorito dall'appartenere o dall'entrare in una setta, come pare sia avvenuto per il padre e marito assassino della provincia di Palermo. E lo faremo con una psicoterapeuta che è anche criminologa e che ha fondato un centro sugli abusi psicologici, il centro e queste caratteristiche di competenza per aiutarci a capire come evitare di cadere nella trappola di una setta e come si può fare quando uno dei nostri cari, dei nostri parenti o dei nostri amici cade in questa trappola. Restate con noi, tra poco ci collegheremo con la dottoressa Lorita Tinelli. Come preannunciato è arrivato il momento di approfondire, di andare oltre la notizia. Siamo collegati, come preannunciato anche questo, con la dottoressa Lorita Tinelli, che è psicologo, psicoterapeuta, criminologa ed è la fondatrice del centro studi per gli abusi psicologici. E quindi in quanto componente e fondatrice di questo centro studi si è occupata a lungo di quella che è la capacità delle sette di snaturare l'autonomia gestionale di tante persone. Ecco, in questo caso si profila all'ombra di una setta, di una setta che peraltro avrebbe come origine un signore che fino a qualche anno fa faceva tutt'altro mestiere e che viveva a Bari, zona della quale la dottoressa Tinelli fa parte e nella quale svolge anche la sua attività. Ma è così facile conquistare la libertà altrui da parte di queste persone? Salve, intanto grazie per l'invito. Assolutamente è facile perché soprattutto nei periodi di incertezza, in tutti i periodi in cui l'essere umano si trova in grande difficoltà, in fragilità o in bisogno anche soltanto di risposte esistenziali al suo percorso di vita, può incappare in persone che si autoproclamano guaritori e quindi dispensatori di verità assolute che possono rispondere a tutte le domande della persona in difficoltà. Quindi una volta che non abbiamo le nostre difese, non abbiamo gli strumenti per leggere la comunicazione dell'altro, siamo facilmente vittime di queste circostanze e quindi diveniamo prigionieri di una realtà che non ha le sbarre ma che ci incapsula sempre di più in un mondo artefatto che si distacca dalla realtà circostante. Da quello che si è capito dalla notizia sembra che sia il marito, l'omicida, sia la moglie, una delle tre vittime erano entrambi finiti in questa setta. La moglie addirittura faceva volantinaggio per affermare quelli che erano i contenuti del messaggio di questa setta. Quindi si crea anche una dinamica non posso dire di gruppo perché erano solo due persone ma una dinamica in cui entrambi sono stati offuscati? Beh, in questo caso da quello che si legge dai giornali, chiaramente gli inquirenti hanno invece sicuramente una visione più attenta del caso. Non si legge dai giornali che la coppia aveva fatto parte insieme all'altra coppia di una comunità invagelico-pentecostale del posto e da quella realtà si erano staccati per continuare a approfondire un po' delle dinamiche che avevano vissuto. Io vorrei fare un inciso. Ci sono queste realtà legate al mondo evangelico-pentecostale che sono organizzate da pastori che non sempre hanno una formazione specifica o esegetica del testo sacro. Si sentono pieni di spirito, si autoproclamano come appunto voluti dal Signore e sostengono di avere nella loro delirio di anipotenza anche potere di guarigione. La loro fissa è quella di liberare il mondo dal demone e quindi queste cose ritornano un po' nella dinamica in questione e anche nel fatto che non solo questo gruppo alimentava questo delirio mistico che condivideva senz'altro, ma nella pagina Facebook dello stragista sono emersi tantissimi filmati tra cui anche quello da lei citato dell'ex parrucchiere di Bari, personaggi appunto che si autoproclamano pastori e dispensano verità e anche guarigioni in ospedali, allungamenti di arti, insomma tutta una serie di tecniche, metodologie magiche che insomma vanno a colpire proprio le persone in estrema difficoltà. Capita che qualche parente, qualche persona amica si accorga che qualcuna di queste persone fragili è finita nel diciamo grinfie di una setta del genere o di un abusatore psicologico del genere. In questi casi però non è facile aiutare quelli che sono finiti in questo. In uno dei servizi che abbiamo visto al telegiornale ha parlato una donna, madre di una figlia che è finita in questa setta addirittura la figlia ripudia la madre. Ecco, cosa può fare un parente, un amico, qualcuno che vuole bene a queste persone per sottrarle da questo triste destino? Non sono casi isolati, anzi questa è la realtà più frequente, cioè figli, parenti, amici, marito, moglie che spariscono in una realtà di questo genere e non vogliono avere più a che fare con i parenti e gli amici precedenti insomma i propri parenti. Questa è in realtà una tecnica utilizzata da questi gruppi per rendere ancora più più vulnerabile l'adepto e per legarlo ancora maggiormente al proprio gruppo e alla propria ideologia per radicalizzarlo. Cosa può fare una famiglia? Intanto il consiglio che io mi permetto di dare laddove è possibile non passare denaro perché il denaro finisce nelle tasche del leader, del guru di chi comanda il gruppo, ma una cosa fondamentale è cercare di mantenere un dialogo aperto, mantenere un filo di speranza, anche se sottile perché attaccare frontalmente il gruppo, il guru è deleterio, cioè allontana ancora di più il proprio caro, ma sollecitare un po' qualche ricordo della vita passata, insomma andare un po' a... noi tecnici diciamo questo, che quando si viene avviluppato in una realtà settaria l'io vero dell'individuo resta nascosto e occultato da una personalità setta, cioè da quello che la setta vuole costruire, ma quella parte intima, personale esiste ancora e va un po' ripresa, sollecitata attraverso delle modalità di una comunicazione più efficace, più utile e non conflittuale, ecco. È un processo difficilissimo, difficilissimo. Lungo magari. È difficile, lungo ma difficile perché io lo devo dire, non è facile, è più facile entrare in un gruppo che uscirne. E succede rarissime volte, ma quando succede poi c'è una rinascita di un altro genere, insomma. E a chi possono chiedere aiuto, oltre a fare questo percorso di richiamo ai ricordi precedenti, i parenti, gli amici, per salvare qualcuno di questi che sono incappati nella setta? Beh, in Italia operano pochissime associazioni che si occupano di questo. Noi abbiamo costituito un'associazione che è il CESAP, che si citava all'inizio, che quest'anno compie 25 anni, quindi insomma, un bel traguardo. Nozze d'argento. Un bel traguardo, veramente anche faticoso, però con grandi anche successi e grandi soddisfazioni. Noi siamo costituiti, il nostro gruppo è costituito da professionisti, psicologi, avvocati, che aiutano molto queste famiglie e queste vittime, le vittime a ritornare nella realtà e a ricominciare, a essere insomma più, a autodeterminarsi con più serenità nel mondo circostante e anche le famiglie a reggere questo stress terribile che vivono quando si separano dai propri cari e qualche volta a trovare gli strumenti per rincontrare il proprio caro inglobato in questa realtà. Parlava prima di tecnica da parte di questi sedicenti santoni, comunque leader delle sette. Ecco, visto che noi siamo partiti dal caso di un signore che fino a poco tempo fa faceva un altro mestiere, faceva il parrucchiere, che poi all'improvviso si ritrova leader di una sette. Ecco, si imparano queste tecniche oppure sono dei doni innati che hanno queste persone? Come funziona diventare santone? Lo scopo l'abbiamo detto, visto che parlavamo di soldi che poi finiscono in determinate mani, ma come fanno queste persone a trasformarsi e ad avere questa capacità tale da plagiare gli altri? Beh, un po' ci devono credere, nel senso che devono credere di avere dei poteri e li devono urlare o comunque trasmettere in maniera molto molto emotiva. ci vuole un po' di carisma, di capacità, di saper portare a sé proseliti. Ma, insomma, noi in un libro scritto con il collega Marco Marzari, che è un avvocato, e il libro scritto, si intitola Sette manipolazioni mentali con la casa editrice PM, è uscito l'anno scorso, abbiamo raccontato, anche attraverso dei casi di osservazioni, di alcuni leader carismatici, che molti di essi hanno loro stessi dei tratti di tipo narcisistico, che è una capacità, è una caratteristica che sa come muoversi nel campo delle relazioni, e come succhiare energia da parte degli altri. ecco, i leader che si trasformano, appunto, hanno proprio questi tratti caratteriali, e questo tratto di personalità, che è assolutamente necessario per poter diventare un leader soprattutto negativo. Un'ultima domanda, dall'osservatorio del CESAP, osservatorio che ha un'estensione spaziale, e abbiamo visto anche temporale, notevole. Questo fenomeno delle Sette è in aumento, è stazionario, grazie a Dio tende a diminuire per la capacità di spirito critico che sta crescendo. Qual è la situazione? Assolutamente no, magari ci fosse lo spirito critico. Diciamo che i social ci hanno un po' addormentato da questo punto di vista, per quanto siano importanti, ma hanno abituato la gente a leggere con meno attenzione le informazioni, e a trasformarle un po' in base alle emotività. Beh, devo dire che il Covid e il post-Covid sono stati un po' l'elemento che hanno fatto aumentare le richieste di aiuto a noi come centro, e questo significa che anche la domanda e l'offerta sono aumentati, perché il periodo che abbiamo appena passato, che in qualche modo ha ancora degli strascichi, ci ha reso un po' più vulnerabili, più confusi, più incerti, soprattutto all'inizio, rispetto a quello che stava accadendo. I social, dove ci siamo tutti proiettati, perché si è cominciato a lavorare molto di più, a usare molto di più la linea internet, insomma tutto quello che spaziava intorno ad essa, e quindi ci ha permesso, ha permesso di far entrare nelle nostre case questi guru e santori, e santoni che promettono la verità assoluta. E questo è stato, insomma, deleterio, perché molti, impauriti, disperati, sono entrati all'interno di idee complottiste, gruppi organizzati in base a questo, insomma tutto questo ha facilitato e ha aumentato un po' questo fenomeno. Quindi a maggior ragione serve fare informazione, lo stiamo facendo noi, trovate anche informazioni sul sito internet del CESAP, informatevi e sviluppate lo spirito critico per evitare di finire, o che finiscano persone care, nelle maglie di qualche setta. Grazie alla dottoressa Lodi Tatinelli, grazie a voi amici telespettatori, per averci seguito anche oggi. Grazie a tutti.